FABBIO NOVEMBRE Ciao, sono Fabio Novembre Siamo nel Salone del Mobile di Milano Siamo nel cartello del cartello e ovviamente puoi vedere tutte le cose califiche Allora, qui è tutto bianco Ho sempre detto che ho un rambo nella mia mente Questa è una cosa molto interessante Si parla di un errore Quando questo bambino era fatto per un'area in Roma per la Expo Universal durante il tempo di Mussolini Questa è tutta l'area della città che sembra abbastanza bellissima ma è stata odiata da la gente Soprattutto questo bambino Si chiamavano questo bambino Si chiamavano questo bambino E ora, dopo 50 anni tutti considerano questo bambino una delle più masterpieces della architettura moderna Quindi è interessante come è sempre così facile di giudere e si tratta di tempo per vedere il valore di qualcosa Si chiamavano il palazzo dell'Italianca e sul bambino è scritto un paese di scopri di scopri di scopri di scopri e di scopri e di scopri è proprio questo Scopri di scopri di scopri di scopri è un mix è un mix questo italiano italiano chiamava di scopri L'Italianca che dice italiani sono buoni per nulla ma capabili di tutto siamo capabili di tutto devo dire sempre c'è l'Italianca di fare cose come si tratta di scopri 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 che ha sviluppato questo sboglio che è stato da scopri che ha parlato dell'Italianca per il progetto che si può andare da una scopri di scopri a una scopri di scopri e non è cambiato che cambia l'attention e il tempo ma il progetto non cambia perché ci sono le intenzioni che ci sono le intenzioni che vuoi che vuoi creare e questo è l'Italianca di scopri di scopri è molto facile per noi siamo cominciati e questo è il segreto dell'Italianca di approcci il design che è il segreto l'Italianca che si che non non ci sono le… si